Sono partiti in forza e proprio il pronto intervento dei primi vigili del fuoco arrivati in posto ha scongiurato il peggio. Questa mattina in via Nino Bixio a Ponte di Legno, dove probabilmente il cattivo funzionamento di una canna fumaria rischia di mandare in fumo una palazzina. I danni, per fortuna, sono stati limitati al tetto e non si registrano feriti. L'allarme è scattato poco dopo le 11.00. In posto sono arrivati subito i volontari del paese che hanno immediatamente circoscritto le fiamme mentre la centrale operativa di Brescia allertava altre squadre del territorio. Sono partiti anche i volontari di Breno e di permanenti di Darfo con autobotte ed autoscala. Per fortuna, come detto, il pronto intervento dei vigili del fuoco di Ponte di Legno ha scongiurato il peggio e i danni sono stati limitati. La palazzina resta agibile. Come sempre però i vigili del fuoco raccomandano la corretta manutenzione delle canne fumarie. Se non è stata fatta durante l'estate, va eseguita prima dell'arrivo dell'inverno. La corretta manutenzione degli impianti può scongiurare infatti gravi danni e prevenire anche tragedie.